Per me il mare è sicuramente un'occasione di mettersi alla prova. C'è anche molto il tema della sostenibilità. Io sono onorato e orgoglioso di poter condividere con IPSA questi valori fondamentali. Non bisogna dimenticare che la vela oceanica è prima di tutto un'avventura umana e anche di grandi emozioni, con un forte potere comunicativo. E si può sfruttare per passare dei messaggi importanti che riguardano tutti noi, come quello dell'ambiente. Io comunque navigo ormai da 15 anni nei mari nel nord atlantico e anche nel Mediterraneo. Lo sport, ma anche queste sfide un po' estreme, mi hanno veramente dato il senso dell'importanza di andare oltre, di sorpassare i propri limiti. E devo dire che con senso di responsabilità anche cercare di migliorare la propria vita, ma anche quella degli altri.